Di fronte a un fatto grave, masciagura, per esempio l'inondazione su Annope, avete visto? C'è gente che dice, ma il Signore è stufo, il Signore ci punisce, manda i castighi, le pandemie, il Covid e tutto il resto. E secondo i maggiori di oggi non è così, non è così. Quindi Gesù dice, ma pensate che quelli che sono morti sotto la torre, è crollata la torre, sono morte tante persone, pensate che quelle persone morte erano più piccatrici delle altre? Evidentemente no. Quindi se muoiono persone la colpa è nostra. Cambiamento climatico, edifici fatti male e tutto quanto. Lasciamo stare il Signore, non c'entra in queste vicende umane purtroppo, siamo noi che siamo responsabili. Però Gesù dice una cosa importante, attenzione, se non mi convertite tutti quanti farete quella fine. Che vuol dire convertirsi? Convertirsi non è, ecco, mi sono convertito. Prima non andavo a messa, non ci vado, mi sono convertito. No, è un inizio di conversione. La conversione dura tutta la vita. Ogni giorno bisogna convertirsi, lasciare certe abitudini cattive e abbracciare quelle buone. Questa è la conversione, una cosa che dura anche tanto. E poi l'ultima riflessione di Gesù è questa. Il vignaiolo c'era un fico che non dà frutti. Dice no, non tagliarlo, lasciarlo. Diamo il tempo. E così anche alle persone diamo il tempo di capire, di convertirsi, di chiedere perdono. A volte subiamo gravi offese, lasciamo il tempo. Che la persona capisca che ci ha offeso, chiedere perdono. E poi gli daremo il perdono quando sarà il tempo. Sia la Gesù Cristo. Sia la Gesù Cristo. Sia la Gesù Cristo. Sia la Gesù Cristo.